ciao a tutti ci troviamo al retorbido in provincia di pavia nell'oltreppo pavese per la triumph adventure experience la scuola della casa inglese è dedicata alla gamma delle tiger e delle scrambler all'interno dell'azienda vitivinicola del marchese adorno è stato realizzato un training camp di 5 ettari e un circuito di circa due chilometri che riproduce naturalmente tutte le condizioni di guida che si incontrano in fuoristrada con tutti i tipi di fondo e ostacoli nei 27 ettari circostanti sono poi stati studiati percorsi che vanno da 10 a 100 chilometri con diversi gradi di difficoltà parliamo un po di didattica si affrontano esercizi che prevedono movimenti base quali per esempio affrontare dei piccoli gradini in salita o piuttosto come affrontare delle salite e delle discese a degli esercizi più avanzati e quindi propiettici anche a chi in seguito vuole affrontare persino delle competizioni come le adventuring o addirittura andare in africa che prevedono anche l'attraversamento di tratti sabbiosi piuttosto che tratti con pitraie e tronchi di legno lo scopo di questa scuola è quello di mettere chi non ha mai affrontato un percorso fuoristradistico nelle condizioni di lasciare l'asfalto banalmente per affrontare il tratto sterrato che vi separa dalla strada alla classica spiaggia che trovate durante le vacanze piuttosto che affrontare come dicevamo prima tratti più impegnativi quindi per chi vuole anche intraprendere una tra virgolette carriera agonistica abbiamo livelli per tutti i tipi di difficoltà base intermedio ed esperti e i corsi sono articolati su un giorno e mezzo prevedono 15 partecipanti con un rapporto di 1 a 3 allievi e istruttori vi aspettiamo il 26 aprile per la prima giornata alla quale faranno seguito altre quattro giornate da aprile a giugno